Hanno stilato solo numeri ma nulla di fatto, queste le parole del consigliere capogruppo del Movimento 5 Stelle del Comune di Vallo della Lucania, Pietro Miraldi, a seguito della recente seduta di Consiglio Comunale, nel corso della quale è stato approvato il rendiconto 2017 e sono stati discussi diversi punti all'ordine del giorno. Tra questi le interrogazioni consigliari urgenti presentate dai consiglieri comunali del Partito Democratico, la lettura ed approvazione dei verbali delle deliberazioni adottate nelle sedute precedenti, l'approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2017 e l'approvazione dello schema di convenzione proposto dalla comunità montana Gelvisone e Cervati e da stipulare con tutti i comuni membri ed aggregati per la Costituzione il funzionamento di un partenariato istituzionale locale. Dobbiamo segnalare che Vallo non ha avuto un abbastamento per quanto riguarda l'imposizione fiscale, chi non paga le tasse, non paga i tributi continui e non pagarli perché certamente anche il revisore nella sua relazione ha detto che non vengono fatti soddisfacendemente, quindi ho detto che significa la parola soddisfacente e comunque il Comune di Vallo non rispetta almeno quattro deficit strutturali, quindi basta che non rispetta un altro in più e può andare addirittura in deficit della strutturale. Ho chiesto per quale motivo non funzionano ancora l'auditorium di Berardinis, non funziona ancora il parco stile del mattino, non funziona lente fiera, non funzionano in questi giorni anche il servizio del bike sharing e mi auguro però che prossimamente viene fatta una politica per i giovani perché i giovani stanno abbandonando questa città. Abbiamo poi sollecitato un Consiglio Comunale monotematico per quanto riguarda l'ospedale perché sotto gli occhi di tutti che purtroppo l'ospedale di Vallo sta andando veramente ci rovina. Il sindaco ci ha assicurato che appena subito il 15 giugno convocherà un Consiglio monotematico dove si parlerà d'ospedale. Io ho chiesto che è giusto che Vallo sia a prifila anche in questo e anche in questa occasione ci siamo aperti alla maggioranza per dare qualsiasi forma di collaborazione. Di parere comune anche il consigliere PD di opposizione del Comune di Vallo della Lucania, Nicola Botti, risultato molto negativo per la città di Vallo, ha precisato Botti al termine della seduta di Consiglio. Da tempo l'amministrazione Aloia non realizza opere e quindi non investe per migliorare l'economia del territorio. Bisogna fare qualcosa soprattutto perché i giovani stanno abbandonando questa città. Il risultato è molto molto negativo. Il nostro intervento, mio e di Francesca Serra, ha puntato molto su anche una questione molto vicina a una fase di predissesto finanziario da parte del Comune. Perché diciamo predissesto? Perché chiaramente i dati sono importanti, i numeri sono importanti, al di là dell'aspetto politico, ma ci sono dei dati oggettivi numerici che fanno gridare al predissesto. Continuiamo ad avere sempre a ricorrere all'anticipazione di tesoreria. Quest'anno c'è stata un'anticipazione per circa 4 milioni e 900 mila euro. Non siamo riusciti a restituire di questi soldi se non 900 mila euro. Non investiamo. Questa è un'amministrazione che non investe, non valorizza perché io posso capire le difficoltà nell'investire, ma tutti quanti sanno che è una regola dell'economia. Se anche con sacrificio si tende ad investire e si investe in opere che possano determinare una ricaduta economica sul Paese, questo è positivo. Invece loro sostengono che non si investe perché ci sono dei mutui precedenti, vecchi da pagare. Chi ha contratto quei mutui li ha contratto per realizzare delle opere che hanno dato economia a Valorucania.